Dopo sole e 27 apparizioni televisive è uscito in tutte le librerie il nuovo libro di Bruno Vespa Bruno Vespa, nel tuo ultimo libro per la promozione ha un libro in promozione? del suo nuovo libro perché l'Italia diventò fascista ecco la ventottesima Bruno, sono venuto adatte una mano tra le rarissime è arrivato a trovarci Bruno Vespa è ospitato in tv Bruno Vespa è tornato a trovarci anch'io già avevo fatto il libro di quest'anno si intitola il servizio sul nuovo libro perché l'Italia diventò fascista di Bruno Vespa davvero il fascismo non può più tornare? no ma poi? sei sicuro? io sì mi era venuto il dubbio e che t'ha da sta sicurezza? non me l'hanno detto però adesso non te lo posso dire di non essere stato abbastanza chiaro a qualcuno te l'ha detto? no, mi ha detto qualcuno e che a qualcuno fosse sfuggita allora stiamo dentro una botte de ferro stiamo dentro una botte de ferro la notizia che è uscito il nuovo libro di Bruno Vespa il nuovo libro di Bruno Vespa eccolo qua rieccomi dunque Bruno Vespa ad annunciarvi e qui vengo al tuo libro che è uscito il nuovo libro di Bruno Vespa il nuovo libro questo è il titolo del nuovo libro di Bruno Vespa di Bruno Vespa mi dico sempre in mezzo alle palle sono venuto adatte una mano per la presentazione del libro sa che Bruno Vespa ha scritto un libro? si lo so vengo qui alla presentazione ah bene bene lo sa che Bruno Vespa ha scritto un libro? si e l'ho già presentato a Forum e a Stasera Italia lo sa che Bruno Vespa ha scritto un libro? sono venuto alla presentazione bene bene tu il libro hai letto? no è che non è arrivato adesso lo sa che Vespa ha scritto un nuovo libro? vengo presentato lo sa che ha scritto un libro Bruno Vespa? eh certo sto andando lì amore lo sai chi c'è pure? chi c'è? c'è Silvietto lì è pure Silvio? Silvietto si amore non sapevi che c'è Silvietto? no perché c'ho un dubbio il dubbio mi è venuto su una cosa che Silvio ha detto poco tempo fa davanti alle telecamere scusatemi vi devo salutare perché devo andare a portare Silvio hai visto allo stadio quando hai detto che dovevi andare a Mignote? voglio sapere Silvio hai visto quando allo stadio hai detto che dovevi andare a Mignote? Silvio poi hai fatto il tempo oppure t'hanno fatto fa tardi? Silvio ti ricordi quando ero allo stadio? la risposta sul prossimo libro di Bruno Vespa grazie